Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nella tappa a San Siro dei Club Dogo non sono mancate le sorprese. Con Jake, Joe e Gu sono salite sul palco anche due voci al femminile, tanto amate in Italia, Arisa ed Elodie, lasciando i fan a bocca aperta per i look scelti. La cantante è salita sul palco per cantare Fragili, insieme al gruppo di rapper milanesi. Non è passato inosservato il look scelto, un attillato abito di paillettes con delle vistose trasparenze su gambe, ombelico e seno, lasciando poco spazio all'immaginazione. Su TikTok, nelle ultime ore, sono apparsi i primi video dei fan in prima fila a San Siro, ipnotizzati dall'outfit della cantante. Un nude look che ha mandato invisibilio il pubblico del Meazza. Le clip condivise sotto hashtag come Club Dogo e Arisa hanno raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti. Non è la prima volta che Arisa stupisce con gli outfit scelti per le sue esibizioni, ma con questo look la cantante sembra si sia proprio superata. Nel mese di agosto era apparsa sui suoi profili social completamente nuda. Molti la ricordano nella sua versione più ingenua, come nella prima apparizione televisiva con sincerità. Ma oggi l'artista è una vera e propria femme fatale. Sicura di sé?